N'hanno combinata un'altra delle loro, i facebucchini! Allora vediamo stavolta, hai condiviso questo elemento sul tuo profilo. C'erano due cosi lì, come si chiamano quelli lì? Sì, quelli lì, proprio quelli che si baciavano all'isola dei famosi. Allora non ha detto il maschio alfa, punto interrogativo. Io ho scritto più che maschio alfa, direi maschio eh o incitamento all'odio, incitamento all'odio. Altri 29 giorni di squalifica. E questa pure, questa era forte, c'era la banda, la banda dei ragazzi che filmava le sue imprese, i bulli, no? E io ho detto, dategliele ai genitori, incitamento all'odio! Mannaggia la miseria! Ah, pure Rocco Panetta, pure il generalissimo, taglie! Mamma mia, guarda qua, guarda! Oh, questa poi! Questa poi! Allora, due uomini che si baciano va bene, ma se io pubblico una cartolina di Franca del Tuscolo, con tre ragazze in Topless, nudo o atti sessuali! E quelli che si baciavano allora che erano? Ma guarda! Oh, Zuckerberg! Ma dove li trovi? Si! Mannaggia! Si sono suicidati, che? Si sono suicidati! Mannaggia la miseria! No, no! Bloccate tutto! Bloccate tutto! Che muove sistemo io! No, no!